Ma che succede, ragazzi? Dove sono le chiavi? Raino? Raino? Dove ce ne andiamo? Pronto? Chiedigli cosa hanno fatto a Anna. Come? Chiedigli che hanno fatto a tua figlia. C'è... c'è uno che ha detto di chiedervi che avete fatto a mia figlia. Io non ho fatto niente, Raino. Lui ha ammazzato un poliziotto! Ho dovuto farlo! Quell'uomo ha detto di chiedervi chi... 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 Mamma, lui ha ucciso Anna. Mamma è morta. Che cosa hai detto? Mi dispiace. La piccola Anna non tornerà più. Ma lei... lei è la mia bambina. Ha detto che portava qui la polizia. Lei è la mia bambina. E mi ha costretto ad accompagnarlo, ma è stato lui. Lei è la mia bambina. Mi ha costretto, mamma. Non mi toccare, lei è la mia bambina. Mi ha costretto. La mia bambina è la mia bambina. No, no, no. No, no, no.